Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate! La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna Infatti, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui E di fatti, in un altro posto, la Sacra Scrittura afferma e qui è Giovanni che parla uno degli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo che disse noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il figliolo per essere il Salvatore del mondo Dunque, la Sacra Scrittura afferma che il solo vero Dio colui che ha creato il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi colui che ha creato le cose visibili e le invisibili nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo il suo figliolo il suo unigenito figliolo e questo lo ha fatto nel suo grande amore perché Dio ha tanto amato il mondo e dunque lo ha mandato per essere il Salvatore del mondo affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui infatti è scritto affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna dunque gli uomini senza Dio sono sulla via della perdizione perché sono sulla via della perdizione? perché essi sono sotto il peccato l'ira di Dio è quindi sopra di loro in quanto sono nemici di Dio sono dei peccatori hanno violato la legge la santa legge del Signore e dunque il Dio è adirato nei loro confronti badate bene è adirato perché l'ira di Dio è sopra appunto i peccatori ma il Dio nel suo grande amore ha mandato il suo figliolo nel mondo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna quindi affinché l'uomo che è sotto la condanna di Dio non perisca deve credere nel figliolo di Dio nell'unigenito figliolo venuto da presso al Padre che cosa significa che deve credere in Lui? cioè deve credere che Egli è il Cristo cioè deve credere che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparva ai testimoni che erano stati anzi scelti da Dio questo significa credere nell'unigenito figliolo di Dio perché dovete sapere che il Cristo che era stato promesso da Dio per mezzo dei suoi santi profeti antichi era il figliolo di Dio che era presso il Padre da sempre da ogni eternità e Dio nella pienezza dei tempi cioè il Padre lo ha mandato nel mondo lo ha mandato nel mondo proprio con questa missione con questo proposito cioè doveva dare la sua vita per noi cioè Gesù Cristo doveva morire per i nostri peccati e doveva risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione dunque chi crede in Lui ha vita eterna non perirà non perirà non se ne andrà in perdizione quando morirà il credente nel Signore Gesù Cristo quando morirà non se ne andrà nel fuoco dell'inferno ma entrerà nel regno dei cieli perché ha la vita eterna infatti è scritto che chi crede ha vita eterna non c'è scritto avrà ma che ha vita eterna è scritto anche in un altro posto che chi crede nel figliolo ha vita eterna dunque per ottenere la vita eterna tu che mi ascolti devi ravvederti e credere in Lui nel Signore Gesù Cristo il figlio di Dio credendo in Lui riceverai la vita eterna perché la vita eterna è il dono di Dio chi ha chi ha il figliolo di Dio ha la vita eterna perché il figliolo di Dio è la vita eterna infatti l'apostolo Giovanni ha detto vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata e chi è appunto di chi sta parlando sta parlando appunto del figliolo di Dio ecco perché ti esorto a te che mi ascolti che sei senza Cristo senza Dio nel mondo che sei sotto il peccato schiavo del peccato ravvediti e credi nell'unigenito figliolo di Dio che è il Cristo di Dio credendo in Lui avrai vita eterna comprendi la vita eterna una vita senza fine e sarai strappato dunque dalle fiamme dove sei diretto perché non ti illudere se rifiuti di credere nel figliolo di Dio ciò che ti aspetta è il fuoco dell'inferno sì l'inferno un luogo di tormento che appunto dove arde un fuoco un vero fuoco dove scendono le anime di coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo gli increduli vanno all'inferno ecco perché ti esorto a credere nel figliolo di Dio ti stavo dicendo vada bene perché se rifiuderai di credere nel figliolo di Dio perirai perirai non vedrai la vita l'ira di Dio resterà sopra di te quindi non è una cosa da poco rifiutare di credere nel figliolo di Dio stai molto attento uomo donna che tu sia stai molto attento perché la Sacra Scrittura che è la parola di Dio è verità e non mente non mente in nulla e quindi se dice che chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra di lui devi sapere questo questo è quello che avverrà all'incredulo o all'incredola quindi vada bene hai ascoltato l'Evangelo quello che devi fare è ravvederti e credere nell'Evangelo altrimenti perirai te ne andrai in perdizione perché morirai nei tuoi peccati perché i peccati i peccati vengono perdonati solamente nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome quindi è in Cristo e credendo in Cristo che l'uomo ottiene la remissione dei propri dei propri peccati come anche la salvezza dai propri peccati e credendo nel Signore Gesù Cristo che si ottiene e quindi è per grazia che l'uomo viene salvato non in virtù d'opere ma per grazia mediante la fede quindi ravvediti tu che mi ascolti e credi credi nell'unigenito figliolo di Dio che il Padre ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo e sarai salvato sì sarai salvato perché per questo Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori e quindi ravvediti credi in lui e sarai salvato dai tuoi peccati e riconciliato con Dio e sarai strappato al fuoco dell'inferno dove tu sei diretto ricordati il Dio ha tant'amato il mondo che ha dato nessuno il genito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna e quindi in queste parole è sottinteso che chi invece rifiuterà di credere in lui perirà sarai tra quelli che perirai perché avrai rifiutato di credere nel figliolo di Dio o sarai tra quelli che avendo creduto in lui sarà salvato nel suo regno celeste io non lo so io non lo so però quello che so è che ti ho annunziato la verità che è in Cristo in Cristo Gesù ravvediti e credi nell'unigenito figliolo di Dio affinché tu non perisca ma abbia vita eterna chi ha orecchi da udire oda